Come si fa a non voler bene alle patate? Le trovi alla base di morbide vellutate, croccanti in un sacchetto, fritte inondate da fiumi di salsa Pasta bianca, pasta gialla, dolci come le porti in tavola è sempre una gioia per tutti Oggi ascoltiamo insieme un pezzo che almeno una volta nella vita abbiamo ballato tutti Patate al forno Alziamo il volume Buon appetito! Patate, olio extravergine d'oliva, sale, 2 spicchi d'aglio, rosmarino e timo Iniziamo a sbucciare le patate Patatonze, io preferisco quelle a pasta gialla Le friggiamo stasera e le vado a tagliuzzare a metà Ancora a metà Dancora rologique Quando dilor altrimenti Aggiungere le tuffe in acqua bollente Aggiungere le tuffe per 5 min Aggiungere le tuffe in acqua bollente Aggiungere le tuffe per londinese Aggiungere le tuffe in acqua bollente Aggiungere un giro d'olio Aggiungere il sale e le foglioline di timo mescolate Aggiungere l'olio e l'olio Aggiungere il forno con la teglia Aggiungere l'olio in pirofila Aggiungere le patate Aggiungere 2 spicchi d'aglio Aggiungere il rosmarino Aggiungere la cipolla rossa A fine cottura a caramella Aggiungere il burro Aggiungere il burro di pancetta 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 Aggiungere il burro di pancetta